Se non avete capito bene, io sono qui in persona per voi, se volete che qualche domanda, qualcosa, io sono qui disponibile. C'è qualcosa che... Dimmi cari carissimo, come ti chiami mio caro mozzo? Italo. Italo, ma che nome meraviglioso, dimmi Italo, dimmi dimmi. Che, quando è fondata la sua analisi? Sì, sì. Se sei nell'analisi poco distrutta, è molto solo un uomo. Esatto, e infatti sono andata un po' suono, andato veramente un po' veloce lì. Tutti sono caricati sull'altra nave. Infatti, non è stata una tragedia proprio. Però hai ragione a chiedere questa cosa. Esatto. Qualche altra domanda, che qualcosa che non avete capito, che non avete... Ah, sarebbe, è bellissima, mi sono inventata io. Eh, sì, e comunque cerchiamo. Grazie, grazie, grazie ancora, grazie all'ospitalità. Io però devo darti una brutta notizia. Non diamo, ma sono abituata a tutto. Sentiamo, sentiamo. Il tuo libro non è stato pubblicato proprio... No? Pochi anni dopo. Quando? Eh, abbiamo dovuto aspettare. Avresti fatto in tempo a fare tanto.